C'è in corso l'amichevole tra il Napoli e l'Apollon Limassol, siamo nel secondo tempo, il parziale è di 0 a 0, ma per le ultime sul mercato e sul rinnovo di Osimène andiamo a Castel di Sangro da Ciro Venerato. Buonasera dallo stadio Patini, Napoli in campo ma società molto attiva sul mercato. Oggi infatti è stata la giornata di Osimène, tantissime le voci, le indiscrezioni e anche le parziali conferme. Ci siamo, il Napoli dovrebbe avere ormai raggiunto l'accordo con l'agente di Osimène, Roberto Calenda, per prolungare il rapporto con il sodalizio partenopei. Cifre blu molto elevate rispetto agli standard dell'Aurentis, 10 milioni più 2 di bonus, si potrebbe quindi arrivare a 12 rispetto ai 4 milioni e mezzo attuali ed una ricchissima clausola recissoria, forse anche superiore ai 150 milioni ventilati. Sicuramente poi ci sarà un'altra clausola quasi raddoppiata per l'Arabia e sui diritti d'immagine un passo avanti del calciatore e due indietro del patron per cercare proprio di dirimere la querel con il nigeriano che quindi firmerà questo contratto e poi fra un anno sceglierà il suo futuro probabilmente in Premier più che in Arabia o al Paris Saint-Germain. E poi c'è anche un'altra notizia che arriva più o meno anche dalla formazione che Garcia ha mandato in campo, anche Piotr Zelischi ci sta ripensando e potrebbe rinunciare ai 15 milioni arabi per rimanere a Napoli per molto meno, si chiama scelta di vita. Ma questo non esclude la possibilità di un altro investimento sullo spagnolo Gabri Vega che attende solo una chiamata del Napoli per sbarcare in Campania. Dallo Stadio Patini è davvero tutto. A voi la linea.